Ne parliamo insieme ai nostri ospiti, salutiamo, grazie per essere intervenuto, Alexander Del Valle, giornalista geopolitico, buonasera. Qual è la percezione che abbiamo, qual è la paura che abbiamo in Italia, no? Di giadisti che si possono infiltrare, possono anche essere di passaggio verso qualche altra meta europea. L'Italia da una trentina d'anni è un paese nel quale ci potrebbero essere molti attentati, però non ce ne sono perché l'Italia ha una strategia intelligente, ha un servizio di intelligenza molto cauto, molto prudente. Poi non c'è gli ussoli, quindi al contrario del mio paese, la Francia, è facile bocciare qualcuno, mandarlo al suo paese di origine e quindi vietargli di fare propaganda, perché se è allontanato non può più fare propaganda. Da noi la maggioranza dei giadisti radicali sono di cittadinanza francese, alcuni non hanno neanche una doppia cittadinanza, anche se sono fili di gente del Maghreb, quindi da voi è un po' diverso e rimane per il momento un luogo di passaggio. Potrebbe cambiare, però rispetto al Belgio, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Svezia, e anche la Svizzera, ci sono molti altri paesi nei quali, grazie agli ussoli, legato ad un'immigrazione stracomunitaria non integrata, malintegrata, il fatto di aver affidato i nostri musulmani, dico nostri perché i musulmani europei, a delle persone radicali, il fatto di aver lasciato molte moschee sotto il controllo di salafiti, di fratelli musulmani, la fratellanza, questa organizzazione per i nostri ascoltatori, creata nel 1928, che è la matrice del jihadismo, perché il jihadismo proviene dai fratelli musulmani. E concludo, in Europa i fratelli musulmani, che sono gli stessi del Hamas, il Hamas è un ramo palestinese dei fratelli musulmani, però i fratelli musulmani sono jihadisti ogni tanto in Siria, con il Hamas a Gaza, però in Europa i fratelli musulmani, che hanno la stessa ideologia, provengono dallo stesso ambiente, fanno finta di essere moderati, perché loro dicono che non c'è un conflitto tra noi, come in Israele, con i palestinesi, quindi noi in Europa ci proponiamo di essere interlocutori ufficiali dell'Islam. Da lì nasce Rukhoi, l'intesa, da 30 anni in Italia ci sono state iniziative, e concludo veramente lì. Il fatto di lasciare, di affidare i nostri musulmani europei a delle associazioni come la turca Milligurush, che è molto influente anche alla Commissione europea, ai fratelli musulmani e anche ad altri stati che non hanno gli stessi valori, che sono contrari all'integrazione di questi musulmani, perché per loro un musulmano sta in pericolo in un paese infedele, potrebbe essere integrato ai nostri valori perversi, contrari alla Siria, quindi l'interesse di queste organizzazioni di controllare le masse di musulmani tramite il controllo delle moschee, i centri islamici, e lì sembrano diversi dal jihadismo, però hanno la stessa ideologia, insegnano nelle loro moschee l'odio agli ebrei. L'Ukhoi, ad esempio, che è stato l'interlocutore molto spesso dello Stato italiano, che ho seguito da 30 anni, ho conosciuto anche Nur Dashan con dibattiti contraddittori, ho visto che sono riusciti a farsi passare per rappresentanti legittimi dell'islam europeo, e loro hanno questo atteggiamento anti-israeliano, anti-ebreo, che a volte nascondono, però ce l'hanno in tutti i loro testi, i loro testi best-seller e insegnamenti, sono un insegnamento anti-semito e anti-ebreo. Il ragionamento è chiaro, poi tanto torniamo, ma c'è un po' di pazienza, visto che cerchiamo di migliorare anche il segnale, torno ad Alexander del Valle, sul discorso anche delle ballie, sicuramente noi assistiamo a un continuo multiculturalismo in Europa, e la Francia è capossibile di questa situazione, però c'è bisogno sempre più di un dialogo tra i popoli, lo scambio culturale per venire ogni forma di estremismo. Queste sono tutte belle intenzioni, poi però ci troviamo di fronte a una situazione un po' complicata, io faccio il caso della Francia, faccio il caso anche del Belgio e delle ballie francesi di Parigi, soprattutto e non solo. Ecco, ma siamo ancora in tempo per recuperare il tempo perso, per riandare sulla retta via, oppure non c'è stato controllo da una parte e soprattutto la mancanza di dialogo dall'altra e si è venuti a questi tempi? La domanda è molto importante perché l'unico paese in Europa che ha provato di pulire un po' il palcoscenico, di migliorare la situazione, fu l'Austria, preciso quando non c'era l'estrema destra, era il centro-destra, non era l'estrema destra, nel 2013-2014 incontrai i responsabili dell'intelligence in Austria e da lì, da quest'epoca, hanno ricreato una struttura di rappresentanza dei musulmani più sana, più autoctona, più idonea e adeguata ai nostri valori, perché si erano resi conto che da 30 anni avevano lasciato troppo spazio alla Turchia e al Miligürj, un'organizzazione turca simile ai fratelli musulmani che aveva addestrato generazioni intere per odiare il proprio paese nel quale sono nati. Però loro mi hanno detto ci vorrà almeno 20 a 30 anni per cambiare le mentalità perché da 30 anni questi musulmani nelle mani di questi radicali hanno imparato un discorso molto eversivo secondo il quale i nostri popoli europei sarebbero tutti islamofobi. Il tema dell'islamofobia è strumentalizzato in funzione antirazzista, da lì nasce l'alleanza con alcuni di estrema sinistra, chiamo questa strategia la paranoizzazione. Se tu fai credere ai musulmani europei che siamo tutti razzisti, islamofobi, che l'islamofobia è una nuova forma di razzismo quasi genoscidario, fai credere ai musulmani che sono trattati qui esattamente come i palestinesi sotto il dominio del cosiddetto diavolo israeliano che lui stesso sarebbe all'origine del genoscido dei palestinesi. Quindi doppia fonte di radicalizzazione, importazione del conflitto israelo-palestinese, e questo molto favorita dall'estrema sinistra in funzione terzomondista per altri motivi, l'alleanza rosso-verde che ho spiegato nel mio libro Rosso Neri Verdi e poi dall'altra parte la paranoizzazione in funzione anti-islamofobia che dà come soluzione ai musulmani il ghetto volontario, isolarmi dall'infedele che comunque non mi darà mai niente, né lavoro, né riconoscimento. Questo è avvenuto in Francia, è avvenuto in Belgio. Da noi adesso i nuovi attentati, quelli che non sono importati e legati a strutture come ISIS o Al-Qaeda, i nuovi attentati dei cosiddetti lupi solitari che non sono lupi solitari, sono più o meno solitari, non sono legati ad una struttura, quindi in questo senso sono lupi solitari, però sono addestrati, rispondono ad un appello, ad esempio Ismail Anie quando ha fatto l'appello a fare il jihad contro gli ebrei e i suoi amici da Doha, dal Qatar, immediatamente abbiamo avuto un attentato in Francia contro un professore in Bruxelles. Però volevo parlare un attimo di lupi solitari o jihadistiche che è comunque sempre organizzato. Le do un esempio, il lupo solitario ceceno di 18 anni che ammazzò il professore Samuel Paty, l'aveva sgozzato per la strada, lui sembrava un lupo solitario, però i fratelli musulmani, e ho fatto un'indagine su questo, in Francia tutti lo sanno, i fratelli musulmani riconosciuti dallo Stato nella grande moschea del dipartamento dove è successa questa cosa, da parecchi mesi i fratelli musulmani facevano credere che questo professore insultava l'Islam e una studentessa che non c'era nel corso ha fatto una falsa testimonianza e che il professore mostrava Maometto Nudo era menzogna, però questo ceceno ha risposto a una paralizzazione. Andando probabilmente poi dopo anche a capire com'è questo fenomeno anche dei flussi migratori che sono irregolari che arrivano, abbiamo detto, a nord, a Lampedusa, in Italia ne sappiamo qualcosa, Turchia da una parte, Algeria dall'altra, insomma ne abbiamo parlato anche con lei, ecco ma si può prevenire oppure è un sistema veramente fuori di controllo? Si può prevenire però non solamente con la sicurezza e la repressione che è molto importante, controllo dei flussi migratori, spie che vanno a vedere, a sentire quello che si dice dai centri islamici nelle moschee, controllo della letteratura, e le faccio un esempio, Cardawi che è il grande ideatore dei fratelli musulmani morto qualche mese fa, che era molto rispettato in Europa, è stato anche ascoltato al livello della Commissione Europea, ha fatto un best seller nel quale lui dice che per tre motivi un musulmano può ammazzare qualcuno e uno di questi tre motivi è l'apostasia o il blasfemio, l'altro è l'adultero, ma lui l'ha scritto, il libro è in vendita in tutte le lingue in Europa, quindi non solo la repressione, basta anche proporre ai musulmani un altro islam di quello che abbiamo accettato di affidarli, noi abbiamo avuto come interlocutori paesi contrari ai nostri valori come il Qatar, come la Turchia, però anche da noi abbiamo avuto come interlocutori falsi moderati che non abbiamo controllato abbastanza, quindi c'è un livello securitario e un livello ideologico perché è un problema ideologico, se tu leggi un libro di un grande docente mondiale ospitato al Qatar, Cardawi, che scrivi best seller e che ti dice tu hai il diritto di ammazzare un professore, come puoi fermarlo, non è solo legato all'ISIS, ha letto solo un libro autorizzato da noi, le faccio un esempio, ho chiesto a due ministri degli interni in Francia e un presidente di fare vietare il libro di Cardawi che ti spiega come picchiare la molie e come ammazzare la postata e il blasfematore, lei mi crede se vuole, nessun ministro in Francia non ha mai vietato la vendita libera di questo libro che è proprio un libro per fanatizzare e per legittimare la violenza e quindi la violenza non va legittimata, va delegittimata. Certo, siamo d'accordissimo.